Ieri pomeriggio abbiamo votato in municipio a Mestre un ordine del giorno in cui si ipotizza la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport nell'area dei Pili. Abbiamo votato favorevolmente pur con molte precisazioni perché questa idea di massima risponde a quello che abbiamo scritto nel nostro programma, il programma che abbiamo depositato nel 2015 quando ci siamo candidati. In particolare prevedevamo che alcune aree di Porto Marghera, tra cui tutta l'asta di Via Fratelli Bandiera e alcune aree del waterfront lagunare, potessero essere recuperate per funzioni diciamo urbane, quindi potessero ospitare in particolar modo strutture sportive, attività ludiche, parchi tematici e quindi nuove funzioni prettamente urbane, quindi con espansione della città in queste aree. Per capire meglio la questione e anche il senso del nostro voto favorevole occorre fare alcune precisazioni. La prima è che Brugnaro ha comprato quest'area con un bando pubblico ancora nel 2006, se l'è aggiudicata perché non vi erano altri concorrenti, il Comune a quel tempo non ha esercitato il diritto d'opzione, le cubature e le possibili destinazioni d'uso di quell'area sono state decise ancora nel 1998, quindi da amministrazioni sempre di centro-sinistra e confermate via via nel tempo. Il Movimento 5 Stelle nel 2012 ha presentato uno specifico emendamento per ridurre le incredibili cubature che sono previste su quell'area come anche su tutta l'area del Parco di San Giuliano. Bene, il centro-sinistra alle 2.38 di notte ha bocciato questo nostro emendamento assieme anche al centro-destra per ordine dell'ex assessore Micelli, senza alcuna discussione. Non accettiamo in alcun modo le critiche da parte di chi ha disseminato di centri commerciali mestre e che non ha assolutamente recepito le nostre istanze quando poteva farlo. Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello dei conflitti di interesse. Su questo non abbiamo mai fatto sconti a Luigi Brugnaro e continueremo anche per il futuro. Voglio peraltro dire una cosa, con tutte le nostre denunce, esposti, interrogazioni e critiche siamo riusciti almeno ad ottenere un obiettivo minimo e cioè la sigla di un blind trust. Lui si è spogliato di tutte le sue imprese, di tutto il suo patrimonio. Questo a nostro avviso è un primo passo in avanti. Comunque continueremo a vigilare perché allo stato attuale in Italia non esiste alcuna legislazione sul conflitto di interessi e quindi anche le nostre critiche, per quanto puntuali, rimangono spesso lettera morta. Questo è l'unico disegno di legge approvato in questa legislatura soltanto dalla Camera dei Deputati e al cui lavoro hanno partecipato anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Purtroppo si è arenato in Senato. Il voto favorevole a questa mozione non pregiudicherà per il futuro l'analisi e l'eventuale critica da parte del Movimento 5 Stelle del progetto che sarà presentato concretamente dai privati. Andremo dunque ad analizzare come Consiglio Comunale le questioni dell'impatto paesaggistico, del che cosa sarà costruito, di quali funzioni, del rispetto delle norme di urbanistica, del rispetto delle norme sulle bonifiche. Ecco tutto questo sarà oggetto di valutazioni future e su cui coinvolgeremo ovviamente anche i cittadini. Vogliamo monitorare quello che sarà il progetto presentato perché assolutamente noi non vogliamo che quell'area diventi una speculazione edilizia, un'area piena di alberghi come sta diventando la via Camarcello, ma soltanto vogliamo che in quella zona si possa presentare l'opportunità di fare una struttura sportiva degna di questa città. L'opzione alternativa prospettata dal centro-sinistra, cioè di fare il palazzetto dello sport nell'area del quadrante tessera, non ci vede favorevoli. La battaglia per noi del consumo di suolo zero è fondamentale, non vogliamo utilizzare nuove aree agricole, ma vogliamo recuperare le aree già urbanizzate e in stato di degrado di Porto Marghera. Come dice sempre Beppe, noi del Movimento 5 Stelle analizziamo concretamente le cose proposte senza pregiudizi e senza preconcetti, andando semplicemente a guardare quello che è l'interesse superiore dei cittadini. Siamo convinti che i nostri sì, espressi in Consiglio Comunale, rafforzino e di molto i nostri tanti no.